Mi chiamo Susanne Glade, sono architetto e designer e lavoro come freelance giornalista e ringrazio molto Abimowell e anche a Pax per avere questa opportunità di essere qua in Brasile e di avermi invitato. Stamattina mi ha affascinato molto dalla vita Etel, ho portato la precisione prima di tutta la storia del design brasiliano che penso in Italia è molto più conosciuto, in Germania forse un po' di meno. Mi ha affascinato molto il materiale e la cura artigianale come sono stati fatti i mobili, soprattutto i dettagli. Mi ha affascinato anche la passione della gente come lo spiegano e ci siamo stati a Casa Cor, che è una fiera che in Germania sicuramente non è conosciuto, non esiste, abbiamo conosciuto tante aziende che io non lo conoscevo, mi è piaciuto moltissimo, sono affascinata.